Dopo l'ennesimo naufragio nel canale di Sicilia, il Cardinale Montenegro torna a farsi sentire. Lo ha fatto dai microfoni di Radio Vaticana. L'Arcivescovo di Agrigento ha parlato di vergogna perché l'uomo, ha detto, dimostra di non avere coraggio di guardare determinate realtà e ad affrontarle. Ha parlato anche di sofferenza perché ha spiegato vedere che il povero è costretto a pagare la sua vita con la morte. Ma vorrei anche sentimenti di speranza, si è sforzato a sottolineare perché davvero qualcosa possa cambiare, perché è impossibile andare avanti così. Non possiamo, l'ho detto tante volte, misurare il tempo condando morti. Il mondo ha bisogno di quella Pasqua che significa vita e togliere le pietre dalle tombe, non mettere le pietre sulle tombe ancora. Sono ancora le parole di Don Franco. In merito all'Europa il Cardinale, che è anche Presidente della Caritas italiana, ha affermato di non credere che stia dimostrando segnali di cambiamento, di inversione di rotta. Sta continuando a parlare di muri, di chiudersi. Il problema dell'immigrazione è solo problema di sicurezza. L'Europa sta dimostrando la sua povertà. Ha tonato Monsignor Montenegro che poi ha aggiunto questa grande Europa, si è dimostrata piccola e la gigante Golia viene abbattuto e sarà abbattuto perché è impossibile che il mondo si debba misurare con i muscoli, soprattutto con chi è povero. Infine l'Arcivescoide Grigento, osservato sempre dai microfoni di Radio Vaticana, dovremmo essere noi credenti a incominciare a prendere posizione capovolgendo quello che i forti e i potenti stanno dimostrando. Ma in questo tsunami di morte alcune volte anche noi ci lasciamo travolgere. Gli interessi personali prendono il sopravvento sul pensiero di Dio e questo non è possibile. Grazie.